Allora, che inizia? Buonasera. Buonasera mister, complimenti, un punto preziosissimo, una partita molto difficile da interpretare, da affrontare, però insomma Poluzzi al di là di un intervento e primo tempo a pugni uniti non ha toccato palla. Allora, primo tempo discreto, le grandi occasioni abbiamo avuto noi, la più grande parata l'ha fatta Buffon sul tiro di Rover e il tiro di Rover che è uscito di così. Secondo tempo ci hanno messo veramente, non in difficoltà, ci hanno schiacciato nella nostra metà campo, siccome lo facciamo tutti i giorni nell'allenamento così, non abbiamo perso le nostre misure, siamo stati molto lucidi, tiri importanti non li hanno fatti se non contro i nostri avversari perché cercavamo di chiudere gli spazi, non puoi fare altre nove partite così perché prima o poi il rimpallo ti va male, però può succedere contro una squadra forte come il Parma che ha gamba, che occupa bene gli spazi, che ha palleggio e quindi ti fa uscire in difficoltà. Quando riesci a recuperare palla non ti fa uscire come quando noi usciamo con le altre squadre. Credo che oggi abbiamo fatto un punto straordinario, abbiamo guadagnato punti su altre, il campionato ce n'è una partita in meno, abbiamo tenuto loro a sette punti, il conto diretto quindi sono otto e quindi insomma oggi è un punto che ai miei ragazzi credo di avergli fatto ancora di più complimenti di altre partite perché è una delle poche squadre che ci ha creato diciamo più difficoltà in secondo tempo di altre squadre. La lettura di questa partita ha richiesto un enorme sacrificio o meglio un enorme attenzione alla fase difensiva e questo ha comportato un sacrificio di qualche qualità, vedi Mazzocchi? È normale, cioè il primo tempo tutto sommato l'abbiamo giocato alla pari, quando siamo rientrati ho capito immediatamente che il Parma aveva preso il sovramento, aveva preso quei 20 metri che non ci permetteva di uscire con lucidità e quindi ho chiesto un sacrificio, ho fatto subito due cambi e mi sono giocato subito due slot e di lì è stato un piccolo diciamo errorino mio, però i ragazzi sono stati splendidi, sono stati splendidi perché nella difficoltà sono stati molto lucidi, cioè è vero che non hanno cercato la profondità come altre volte ma perché loro proprio non te la concedevano, ti venivano a prendere subito la palla e quindi noi eravamo in difficoltà, poi avevamo un piede invertito dal basso quindi faceva un po' più di fatica da uscire, secondo me abbiamo perso una spinta importante di Decauil però l'abbiamo acquisita con Lunetta perché ha fatto secondo me una buona partita, quindi tutto sommato io oggi sono strafelice, diranno ci siamo difesi? Sì, secondo tempo sì, ma mi vedete dire se a Parma non si vengono a difendere tante squadre? Penso di sì. L'ultimissima mista da parte mia, ti serviva un punto nelle ultime dieci partite, l'hai fatto, quindi salvezza? Io penso che a 48 ci arrivano poche squadre, quindi sarei ipocrita di dire che non siamo salvi, noi siamo salvi, è chiaro che adesso il sogno continua, ci sono nove partite, ce ne abbiamo una sabato, cercherò di recuperare qualche d'uno, abbiamo perso Fior di Lino, ma tanto prima o poi tutti, prima o poi le perderemo, quindi abbiamo perso lui, ci puliamo una alla volta, anche questo qui è sentimo di grande maturità della squadra, è chiaro che più le partite diventano meno, più noi rimaniamo là e io più sono contento di vivere questa favola insieme alle miei ragazze, alla società, ai 200 persone che oggi sono venute in trasferta, che mi hanno detto che è il record di seguire il sudora, quindi sono molto felice di questo. Ho visto il tuo pugno chiuso al fischio finale, hai risultato come dopo una vittoria? Credo che questo sia una vittoria, credo che questo sia una vittoria, tanto il Parma rimane a otto punti da noi, cioè recuperare otto punti in nove partite, non è così semplice, quindi è l'ultima dei playoff il Parma, e quindi tenerla a distanza con lo sconto diretto a favore è più che una vittoria, perché se veniva mi veniva a due punti e quindi tenerla è tanta roba, in più prosegue la striscia. Oggi abbiamo fatto un record che nessuna squadra aveva fatto, sei partite in trasferta senza mai subire gol, anche questo vuol dire sintomo, diranno di essere catenacciaro, no secondo me è sintomo di grande organizzazione e di dei ragazzi splendidi che hanno voglia di sacrificarsi. Hai iniziato con lunetta a destra, poi hai invertito i due esterni. Secondo me quando abbiamo invertito abbiamo avuto delle situazioni importanti, volevo andare invece che al cross anche al tiro, perché avevo capito che loro non ci concedevano il cross e quindi bisognava portare i piedi dentro e quindi ho cercato questo. Penso che il primo tempo abbiamo giocato alla pari, il secondo tempo è stata una difesa contro attacco, ma non sono qui a nascondermi, però credo che la mia squadra nella sofferenza sia molto lucida rispetto ad altre squadre. Ciao Ministro, complimenti. Grazie. Innanzitutto ti ho tranquillito sui 48 punti, perché ho fatto un pezzo a ieri, ho fatto vedere la memoria storica, 2009, 2010, 2011, erano necessarie più di 48 punti, ma c'erano 22 squadre, cioè 42 partite che 38, salvi alla grande. Il prossimo obiettivo qual è? Se c'è qualcosa che non si può dire, poi ti voglio fare i complimenti per un'altra cosa, perché il giorno d'andata è chiuso a 26 con 16 partite, ne hai già fatti 22 in 10 nel giorno di ritorno. Mi sembra che siamo la seconda squadra, se oggi non fa risultato il Frusinone siamo la prima, io spero che faccia il risultato, va bene, gli obiettivi noi giochiamo partita per partita, non voglio che questi ragazzi vengano sdiminuiti se dovessimo arrivare invece che ottavi, no, perché stanno facendo qualcosa di straordinario, poi noi viviamo la giornata, ma viviamo la favola con grande consapevolezza, io oggi quando ho visto loro, fine primo tempo che era consapevole di aver giocato alla pari, ho detto ragazzi continuiamo così, non è stata così, perché per bravura del Parma, non per demerito nostro, bisogna dare anche merito agli avversari qualche volta, secondo me il Parma è una squadra, forse una delle più forti del campionato, per qualità tecnica, gambe e come copre il campo, quindi bisogna dare bravo anche a Pecchia, che è vero che tutti sperano di vincere il campionato, ma ne vincono due del campionato, quindi ci sono tante altre squadre che sono indietro. Mister, buonasera, Lorenzo Fava, Sport Parma, oggi due filosofie opposte si scontravano, non solo per il modo di fare calcio, ma anche per il modo di costruire la squadra, poi sul tipo di partita che si sviluppava tra Parma e Suttero, era abbastanza ovvio che ce n'era una che teneva molto il pallone e l'altra che invece si copriva bene per poi ripartire. Ieri in conferenza Pecchia ci ha detto al Suttero piace farsi attaccare, è così? Allora, ora vi sveglio un segreto, ci sono degli studiosi che si stanno studiando, a parte non si dice neanche così, vabbè, ci stanno studiando, meno possesso palla abbiamo, più vinciamo, quindi perché io devo avere il possesso palla e devo rischiare? Noi ho perso una partita con il mondo e abbiamo avuto il 54 del per cento di possesso palla, anche perché il possesso palla, è vero sì che è estetica, ma a me l'estetica nella mia vita non è mai esistita, io mi sono sempre imboccato le maniche per ottenere risultati e credo che sia importante che ognuno sviluppi quello che sa creare o dare, io non va, vedi, Fabio è andato con la giacca e con la cravatta e lo invidio, io sono qua con la tuta, tutto sudato e tra un po' entro in campo, sono due fisiografie diverse, Fabio l'anno scorso ha vinto il campionato, quindi complimenti, io ho 24, eventualmente non c'è una sola filosofia, ce ne sono tante, e quindi io sposo la mia, quella del non l'estetica, sono anche brutto, quindi bisogna che vado a fare l'estetica. A proposito della sua carriera, mi incuriosisce un po' la sua parabola, mister, perché qualche anno fa, Serie A con il Cesena, con il Bologna, poi il Cagliari, grazie Cagliari, poi un piccolo calo, se vogliamo, una parabola che non era più brillante come quella degli inizi, e poi questo miracolo dello scorso anno, per il quale io stesso le faccio ancora i complimenti a Cosenza, e adesso ne sto facendo un altro clamoroso, mi spiega come sono andati questi anni? Io non te lo so dire, non partecipo ai salotti, non vado alle trasmissioni televisive, non ho il procuratore, quindi tutto sommato è vero la parabola, ma mi sono sempre, a me, io ho rischiato tre anni fa di andare a allenare in Serie D, a me piace allenare, poiché sia Serie A o Serie D a me non mi cambia niente, io voglio andare in campo, allenare i miei giocatori, creare un'empatia importante, e credo che questo sia, poi, se per arrivare a certi livelli bisogna andare nei salotti, non fa più parte del mio modo di vedere, io voglio essere giudicato per il lavoro che faccio per la mia società, per quello che riesco a creare, è vero che tanti anni fa sono andato in Serie A, non fa parte di me perché io sono molto scorbuto, e poi i giocatori, quindi quelli, diciamo, top, non capiscono l'urlo, sì, però, però credo che anche a Cremona ho preso una squadra che era a terza ultima in Serie A, retrocessa, l'ho salvata, l'anno dopo ho fatto un mezzo disastro, sono andato a Cosenza che erano ultimi e ci siamo salvati, qui l'ho preso, erano ultimi, ma sapevo che c'avevano dei valori, adesso siamo quarti, io non so se conta quello per arrivare in alto, ma io sono strafelice di essere al su Tirolo, al di là del risultato, e è che è normale che adesso sei contento di essere quarto, ma ero contento dal primo giorno che sono arrivato. Buonasera, Ministro, con la sua squadra tutta in area di rigore, il Parma poteva risolverla con un colpo di genio, no? Quanto è pesata, secondo lei, l'assenza di Vasquez oggi nel Parma? Devo essere sincero? Forse se c'era Vasquez avrebbero sofferto un po' di più. Stiamo parlando di un super campione. Però toglie qualcosa di equilibrio alla squadra. Questo è il mio punto di vista. Perché l'andata c'era, ma abbiamo rischiato molto meno l'andata e abbiamo vinto. Con Vasquez hai un punto di riferimento importante, quindi trovi delle contromisure. Ed è un super campione, secondo me fa più bella figura in Serie A che in Serie B, Vasquez, per la qualità. Qui sai che c'è degli spazi intasati, quindi lui deve andarle a trovare fuori, quindi tira fuori sempre. E noi se ci tiri fuori e non veniamo, ci stiamo là, quindi non ci crea nessun problema. Con Benediccia e Bon quando è entrato, qualche problema ce l'hanno invece creato. È un paradosso del calcio, ma non credo che sia così tanto distante dalla realtà. Lei quindi è partito con l'idea famosa, il primo non prenderle. C'è qualcuno che parte con l'idea di prenderle? No, io parlo del fatto che la sua squadra, lei ha parlato di un primo tempo equilibrato. Non concordo molto perché lei per la prima volta, un suo giocatore, è entrato in area del Parma al ventesimo. Allora, tornerò a Parma e guardiamo la partita, l'azione più pericolosa l'abbiamo avuta noi. Il primo tempo sto parlando, fermo. Allora, ti faccio un esempio, la parata di Buffon, il mezzo rigore che era sulla linea norrina, il tiro di Rover, mi dici il primo tempo quanto sono arrivati il Parma in area di rigore nostra? Quindi il bravo è del... Zero, guarda, no no, è zero. Quindi poi, il secondo tempo ci hanno schiacciato letteralmente, ma non per demerito nostro, per bravura del Parma. E questo spiega anche tutti i cambi che ha fatto? C'ho una rosa importante che credo che cinque sostituzioni, come facciamo noi, ce l'abbiano in poche squadre. Sai perché? Perché noi giochiamo per il suo tiro, non giochiamo per noi stessi. Posto? Grazie. Grazie.